Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi dovete sapere questo. Voi che siete sotto il peccato, voi che siete signoreggiati dal peccato e quindi che siete morti nei vostri falli e nei vostri peccati, dovete sapere questo, che non potete autogiustificarvi, cioè non potete farvi giusti da voi stessi. Non importa quante opere buone voi possiate fare, dovete sapere questo, che la vostra giustizia è come un panno sporco agli occhi del Signore. Sappiatelo questo. Non importa quanto voi cerchiate di operare il bene, voi davanti a Dio rimanete dei peccatori. L'ira di Dio è su di voi e siete sulla via della perdizione. Questo significa che se doveste morire in questo momento precipitereste nell'Hades, cioè ve ne andreste all'inferno, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre fuoco. E questo appunto perché siete dei peccatori. Agli occhi di Dio siete dei peccatori. Ma mentre da un lato voi non potete farvi giusti, dovete sapere che voi potete essere giustificati, cioè potete essere resi giusti da Dio. E questa giustificazione è per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, perché l'uomo è giustificato per mezzo della fede in Cristo Gesù, in quanto il giusto vivrà per la sua fede. Dunque, per essere giustificati voi dovete credere nel Signore Gesù Cristo. Cosa significa che dovete credere nel Signore Gesù Cristo? Significa che dovete credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano innanzi stati scelti da Dio. questo è l'Evangelo nel quale dovete credere per essere giustificati, in quanto nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. dunque è bene che abbiate davanti ai vostri occhi l'Evangelo. Tenetelo davanti ai vostri occhi, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ad ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, proprio appunto perché in esso la giustizia di Dio è rivelata. Una giustizia che viene da Dio, che si basa sulla fede. È una giustizia che il Dio dona, che il Dio dona all'uomo che crede. Infatti, che cosa è scritto in merito ad Abramo, il patriarca Abramo, che credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, cioè la sua fede gli fu messa in conto di giustizia. Dunque, a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Ed è questo che appunto ti voglio far sapere. Se tu credi nell'Evangelo, la tua fede ti sarà messa in conto di giustizia. Sarai giustificato, reso giusto. Quindi, l'ira di Dio sarà rimossa da te. Smetterai di essere un peccatore sulla via della perdizione, perché ti ritroverai sulla via della salvezza, su quella via che emmena nel regno dei cieli. Perché adesso tu sei sulla via della perdizione che emmena l'inferno, però se tu crederai nell'Evangelo sarai giustificato per fede e quindi sarai sulla via della salvezza, sulla via che emmena la vita, sulla via che emmena nel regno dei cieli. Perché? Chi crede nell'Evangelo ha vita eterna. Sì, perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Il Dio dona la vita eterna. La dona, quindi la dà gratuitamente, la dà gratuitamente a coloro che credono. La scrittura dice infatti chi crede ha vita eterna. Dunque considera credendo nell'Evangelo che cosa otterrai? Otterrai la giustizia di Dio e quindi sarai reso giusto e otterrai anche la vita eterna. Quindi avrai la certezza che quando morirai ti dipartirai dal corpo ed andrai ad abitare con il Signore lassù nei luoghi altissimi. dirai allora ma allora è tutto per grazia? Sì, è tutto per grazia affinché nessuno si glori. Se fosse per opere se fosse per opere intanto non sarebbe non sarebbe per grazia ma se fosse per opera la giustificazione se la vita eterna si potesse ottenere per opere l'uomo una volta ottenuta la giustificazione una volta ottenuta la vita eterna starebbe del continuo a gloriarsi di se stesso a vantarsi di se stesso ma il vanto è escluso è escluso per la legge della fede perché appunto il giusto vivrà per la sua fede io che vi parlo sono stato giustificato da Dio per grazia mediante la fede in Gesù Cristo e mi glorio nel Signore che dice chi si gloria si gloria nel Signore mi gloria nel Signore perché Lui mi ha ammesso la mia fede mi ha ammesso la fede incontro di giustizia e dunque che devo dire se non che voglio ringraziare il Signore Dio per avermi giustificato e siccome che ho creduto parlo e ti annunzio ti annunzio che cosa ti annunzio appunto che in Cristo Gesù c'è la giustificazione perché è appunto Cristo come dice come dice l'apostolo come dice l'apostolo Paolo ai 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 santi di Corinto perché colui che non ha conosciuto peccato egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui quindi l'uomo l'uomo che crede in Gesù Cristo diventa giustizia di Dio in Cristo Gesù e tutto questo per i meriti di colui che è il Cristo il figlio di Dio perché egli si caricò dei nostri peccati li portò nel suo corpo sul legno della croce dove fu crocifisso lui si è caricato dei nostri peccati e spargendo il suo prezioso sangue ha espiato i nostri peccati sì li ha espiati e quindi tu che mi ascolti sappi che se crederai nell'Evangelo che ti ho annunziato diventerai giustizia di Dio in Cristo Gesù ed esulterai ti rallegrerai farai festa perché perché non sarai più annoverato tra i peccatori sulla via della perdizione ma sarai annoverato tra i giusti che sono sulla via della salvezza che mena quindi nel regno dei cieli quindi tu che sei sotto il peccato ravvediti abbandona i tuoi pensieri iniqui i tuoi pensieri vani e credi credi nel Signore Gesù Cristo e sarai giustificato e quindi quando sarai giustificato allora comprenderai le parole scritte dall'apostolo dall'apostolo Paolo ai santi di Roma giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore allora e solo allora capirai capirai perché avrai pace con Dio perché perché sei stato giustificato da Dio per fede ma questa giustificazione ricordati appunto è per grazia mediante la fede ravvediti dunque e credi nel Signore Gesù Cristo ricordati il giusto vivrà per la sua fede chi ha orecchi da udire oda